Davide, dritto, dritto 17 anni, fai la cura, ti fermi fermati lì, vieni avanti oh, dritto, passa su diritto se ce la fai ti prendo io qua, passa su dietro a manetta vai, vai, vai quasi cerchi aspetta dobbiamo andare su qua pizzala, pizzala dopo sto qua io te la tengo figa, anche i piedi vai piano fino a lì e gli dai solo il colpetto a salire qua vai ancora vai aspetta 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 adesso aspetta 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 Grazie a tutti.